Come per i quattro ragazzi di Torre del Greco, vittime del crollo di Genova, neanche per Gennaro Sarnatano c'è stato il funerale di Stato. Questa mattina, nella chiesa dell'addolorata di Casalnuovo, si svolta la cerimonia funebre per il camionista originario di Volla, morto in seguito al crollo della 10. Toccante l'omelia del parroco Don Ciro Biondi, che ha ricordato Gennaro, grande lavoratore, che era su quel ponte il 14 agosto per lavoro. Momenti di grande commuzione si sono vissuti durante la cerimonia. In chiesa una parente ha avvertito un malore, la donna è stata soccorsa dagli altri familiari che l'hanno accompagnata all'esterno, ma la rabbia per quanto accaduto è tanta. Non pagheranno niente a nessuno, alla fine va a finire tutto, tarallucci e vino. Solo questo. A me mi dispiace perché c'è mio nipote qua, mio cugino, un ragazzo solare, un ragazzo sempre con sorriso in bocca e non doveva fare questa brutta fine. Io penso, presumo che sia sicuramente la responsabilità di Autostrada per l'Italia, sicuramente. Alla fine della funzione il corteo funebre è partito dalla chiesa per raggiungere il cimitero.